ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video il cantico degli oranghi il famoso libro che tutti noi leggiamo per ispirarci a comprare gli orologi però a volte il cantico degli oranghi viene un pochino messo da parte e viene sostituito dai vostri video diventa anche quello un diciamo un terreno fertile per la scimmietta per poter apprendere novità novità per lei in senso generale magari orologi che sono lì da decenni e decenni che non nemmeno conoscevamo e che tutto d'un tratto un amico del canale ci mostra come dire io questo l'ho preso nel 92 e ti dice ma non sapevo nemmeno che esistesse fammi un po prendere nota no fammi un po prendere nota che potrebbe me lo vado a studiare è che un buon sistema per andare per spingere per spronare le persone gli appassionati ad andare a informarsi su un determinato modello marchio anche sconosciuto no fammi un po ho sentito nel video ho sentito parlare di questo marchio fammi un po andare a cercare cos'è vai incroci è tutta farina che poi entra nel sacco no come diceva però così freddi detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo longi in idroconquest ultimo a chiappone uno degli ultimi ultimamente mi ci sto dando un po dentro con 41 mm di diametro cassa calibro letta 28 92 detto anche l 619 e che finalmente posso indossare con piacere bello 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 adesso guardiamo i vostri video diamo il fuoco alle polveri con la barra spaziatrice che è pronta a subire colpi del destino e io glieli do subito ciao davide sono andrea 39 anni oggi voglio andare a darti la collezione di orologi di mia moglie è una parte della mia vai bomber si è hampton in edizione limitata con quadrante madre perla e diamanti agli indici in casa un movimento al quarzo quarto cartier panther misura media anche qui un movimento al quarzo signore vogliono il quarzo ancora un cartier questa volta un rond must misura piccola diametro cassa 29 mm movimento al quarzo goffio adesso ti mostrerò una parte della mia collezione di orologi cominciamo con sei cooking turtle diametro cassa 45 mm questo è libero incassato il 4r 36 day date si differenzia dalla versione base del turtle per la lunetta in ceramica il motivo del quadrante e il vetro zaffero con la lente magnificatrice ho installato un bracciale strap code perché questa referenza nello specifico nasce soltanto col cinturino in gomma ok va bene te lo perdono te lo perdono però sinceramente la lente magnificatrice sul day date cioè diventa un rettangolone così è un pochino invadente no diciamo così però magari basta abituarsi insomma uno di quei seico che hanno tutti gli upgrade del caso no vetro zaffero ghiera in ceramica lente magnificatrice e ora c'è anche bracciale giubili ci sta proseguiamo ancora con un altro seico o baby marine master diametro cassa sempre 45 mm movimento seico 6r 15 vetro zaffero in edizione limitata pad e lunetta pepsi in alluminio anche qui strap code per i motivi di prima sì io lo sai che insomma va bene ci sta rispetto ci sta ognuno fa come vuole poi che capace che lo farò anch'io non è che però in linea di principio su orologi insomma che cominciano a costare una cifretta mettergli il bracciale di tizio caio sempronio mi scocerebbe un po anche se ci sta bene anche se è bello poi magari lo faccio anch'io sapete che io predico bene razzo lo male continuiamo con questo bellissimo glycine airman numero uno quindi 36 mm nella versione gmt in cassa un calibro se sellita sv330 anche qui ho montato un bracciale di strap code perché nasce con un cinturino in pelle perché questa è una scelta che se prima esteticamente accettabile no insomma erano belli a vedersi qua con questi simpaticissimi finali dritti e tutto questo spazio vuoto un giubilì così non si può vedere cioè proprio veramente te lo dico con il cuore cioè non me ne volere ma giubilì finali dritti su un orologio così classico poco zero qua c'è proprio un cinturino o al limite un nato no se vuoi fare un po l'alternativo ma il bracciale giubilì con i finali dritti ripeto è la morte la morte è la morte punto regalo di mia moglie che bellissimo spirit zulu time di lungin diametro cassa 39 mm versione braccialata lunetta in ceramica verde quadrante nero incassa un calibro prodotto da eta in esclusiva per longine certificato costo bavo qua non ce lo cambiare bracciale sennò ride in super ocean 42 millimetri quadrante nero laccato lunetta in ceramica e cinturino in cauciù la scatoletta alla micro regolazione vabbè incassa un calibro eta 28 24 certificato costo 28 24 ora ti mostro la mia piccola collezione di omega omega constellation referenza 168 0 29 diametro cassa 35 mm incassa un calibro a carica automatica di omega 75 1 la particolarità di questo orologio è il motivo del quadrante che viene chiamato dagli appassionati la linen perché riprende le trame di quel tessuto ha una lunetta zigrinata in oro bianco vetro plexi indici applicati corona e bracciale e vetro originale bracciale a barna che bello bravo da una parte che dall'alto questo è ganso possiamo anche ammirare il bellissimo fondello con l'osservatorio e le otto stelle che rappresentano i record di omega che bello che è questo è bravo proseguiamo con questo si master pre bond diametro cassa 39 mm incassa un calibro mega 11 09 certificato cost anche questo tutto originale corona vetro e bracciale bravo ci sei poi poi omega master di 25 32 80 41 mm di diametro spessore circa 11 in cassa un calibro 11 20 certificato cost qui invece ho installato il bracciale del moon watch ritengo che il bracciale originale anche se molto azzeccato per il suo design risulti troppo massiccio per queste referenze cioè hai azzeccato cioè ci sta hai messo il moon watch il bracciale del moon watch su quella lì ci sta perfettamente sia un pochino maghetto dei bracciali cioè fai apparire scomparire cambiare sostituire il maghetto dei bracciali bravo bravo penso ci starebbe anche bene però io fatico a livello concettuale di principio capito di mettere il bracciale dello speed master su un si master poi ci sta bene lo vedo che ci sta bene bisogna vedere dal vivo le finiture se combaciano se sono le stesse se non è un pugno in un occhio visto dal video così ci sta bene un altro si master diver questa volta gmt prodotto da omega in occasione del cinquantesimo anniversario della famiglia si master nella referenza 25 34 punto 50 in cassa un calibro 11 28 appunto gmt con sfera delle ore saltante anche qui ho installato il bracciale del moon watch bravo anche lì tutti il maghetto e maghetto omega si master diver questa volta 25 31 punto 80 diametro cassa 41 mm questo è stato il primo mega indossato da james bond ovvero pierce brosnan totti anche qui ho installato il bracciale del moon watch vabbè ma allora se sei malato se anche qui ho stato ma tutti ci metti il bracciale del moon watch ma cosa fai li compri a parte cioè vai fallito non so quanto costarà il bracciale del moon watch ma cosa 900 euro 800 700 quello che è true 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 e li metti poi c'è tutti i bracciali uguali scusami un secondo ma non ti viene anche un po lo scheribizzo di dire ma mi ci metto anche un bel cinturino in cuoio con le punture giganti così un nato c'è tutti i bracciali uguali ma va bene uno è fissato però a sto punto ma ditemi qualcosa che voi è normale proseguiamo con un altro orologio di james bond vai da questo bellissimo megacy master diver nella referenza 22 20.80 che si differenzia dalla versione precedente che la 25 31 dopo per il bracciale ci applicati il logo applicato è in cassa per la prima volta il calibro 2500 con lo scappamento coassiale ci piace anche qui bracciale del moon watch orologio indossato da daniel craig in casino royal si malattia riguagliata poi tutti i bracciali omega si master diver 300 l'ultima referenza 41 mm di diametro quadrante laccato e per la volta lunetta in ceramica anche questo in cassa un calibro 2500 ma nella ultima versione ovvero la di anche qui è installato il bracciale del moon watch molto bello si si è capito bello questo è l'ultimo che ho finito master diver allora si master diver ultima referenza 42 mm di diametro cassa lunetta in ceramica quadrante in ceramica con ondina incisa laser calibro 8800 certificato metas invece ritengo che su questo orologio il suo bracciale originale sia veramente azzeccato per dimensioni e spessore della cassa meno male proseguo poi con quest'altro mega il si master 300 41 mm di diametro cassa lunetta in ceramica e liquid metal calibro 8400 antimagnetico ma non ancora certificato metas indossato da daniel craig in spectre ciao anch'io questo l'ho venduto per poi prendere l'omega diver 300 quello di prima c'è ora c'è quello di prima e prima avevo questo qua l'ho venduto per il solito discorso che ormai conoscete tutti che quelle sfere lì così metalliche a specchio a me non mi aggambavano per nulla cioè non riuscivo a in certe condizioni non riuscivo a leggere l'orario e comincia a darmi fastidio ma ti si inserisce il tarlo e una volta e due tre poi ho detto sai cosa c'è pacchetto chi lo vuole l'amico qua in zona l'ha comprato e con i soldi mi sono preso il diver 300 che è differente forse meno affascinante di questo a livello così stilistico retro ma è un'icona moderna bello 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 si bravo top l'ho dato sito come la simaster planet ocean or co giuda vogliamo cassa 42 mm calibro incassato 8500 anche questo antimagnetico ma non ancora certificato metas con il suo bracciale originale indossato da daniel craig in skyfall skyfall ma ti sei fissato questa roba qua 600 metri di impermeabilità 00 se concludo facendoti vedere ho finalmente bracciale questo non poteva mancare nella mia collezione di omega c'è bracciale sullo speed master un watch poverino questa è la penultima referenza quella con valigione e tutti gli accessori annessi nella versione col vetro esalite fondello chiuso e calibro 1861 bene davide spero che la mia collezione ti sia piaciuta e ti faccio i miei complimenti per il canale colgo l'occasione per salutare mia moglie e le mie figlie beatrice ginevra ciao beatrice un abbraccio e a presto un abbraccio lo blog lo blog lo blog lo ora parte di scherzo la collezione mi è piaciuta assai eh gli do anche un bello 8 8 gli diamo un 8 da 8 e mezza 8 e mezza ti do 8 e mezzo perché è interessante questa collezione cioè la praticamente la collezione l'evoluzione del simaster 300 pre bond ce l'hai tutti praticamente fino arrivare a quello moderno e questa qua è una cosa che ti fa onore tra virgolette cioè sei stata a spendere dei soldi dei gran soldoni per mettere su in piedi questa piramide evolutiva no a questa scala evolutiva fino arrivare a quello dei giorni nostri più altri chicche contro chicche qua e là alla fine abbiamo visto finalmente il move watch che è il donatore di tutti i bracciali agli altri infatti lo vedevi che era zoppicante forse di donare bracciali lì quella cosa lì sinceramente non la capisco anche perché poi vuoi un po' sinaturare se nel 96 hanno fatto il simaster 300 con quel bracciale e te che hai fatto tutta la scaletta evolutiva e me lo devi tenere con quel bracciale altrimenti mi stravolgi il design cioè mi stai trasformando quello orologio è qualcosa che non è mai esistito ho capito che da parte ce l'hai il tuo bracciale originale ma insomma il colpo d'occhio vedere tutte anche l'evoluzione a livello di bracciale che è metà orologio bracciale diciamo per modo di dire comunque oltre a mezzo te lo sei meritato mi ha fatto piacere anche delle belle immagini una buona esposizione diciamo che poi omega ora mi ha fatto anche venire voglia di collezionare omega cioè quando io vedo il planet ocean lì ho avuto quello da quel calibro 2500 e l'amico caramaschi l'altro giorno mi ha inviato il link dell'omega di un planet ocean che era in vendita 39 o 29 non mi ricordo quant'era perché perché era esattamente tra dopo aver comprato due longjin vintage questo longjin e poi dopo ho preso il rolex era lì in mezzo mancava più che prendeva anche il planet ocean cioè così poi dopo sono finito completamente sotto i ponti no però quando vedo tutta una collezioncina di omega così mi vien voglia di possederne altri come diceva cicciolina no è però magari aspettiamo giorgio e panera e prima fine panera e dai ciao davide ciao ultima volta che ti ho mandato il video che ho fatto vedere un po la mia raccolta faccio un veloce pro memoria di alcuni che ti avevo già mostrato poi pro memoria il tudor black bay crono poi il cartier pascia sia timer da 38 se a timer poi l'omega speed master professional moon watch poi un gege lecout reverso ivc amalfi platino del 93 con un dial da 35 dial ma da cassa compresa la corona sono 39 sono abbastanza sporgenti sporgenti da uno zenith e il primero da 42 oh che bello questo qua me l'ha fatto vedere il mio amico che è venuto qua cristiano già cristiano ti saluto stamattina proprio è venuto c'è ma questo roggio al polso l'abbiamo un pochino rimirato rigirato riguardato è sì ci siamo divertiti a guardarlo bello assai adesso ti passo a farti vedere alcuni orologi che ancora non ti avevo mostrato come questo gran seico elegans che ha scelto per la sua estrema semplicità con una lettura molto chiara dell'ora inoltre ci tenevo ad avere comunque un calibro manuale che fosse ben fatto mi sono trovato molto bene poi ogni tanto come sempre gli cambio i cinturini anche per preservare quelli originali mi diverto molto a cambiarli oltre a gran seico non ti ho ancora mostrato il rolex dei just bellino top ormai lo conoscono tutti questo adattare roulette 36 quindi giorni che si alternano tra rossi e neri eh ma non si vede bene fuori fuoco molto conosciuto già molto visto sul canale quindi non mi dilungo fuori fuoco l'ultimo che ti mostro della collezione che già avevo poi è questo panerai panerai bianco l'u minor marina top vai più indietro vai là spostalo i piccoli secondi a ore 9 incredibile qualità di lettura della dell'ora veramente molto comodo particolare con una storia tutta italiana e già avevo l'anonimo mi ero innamorato delle linee quindi dato perché non prendere anche il suo si vede male ispiratore si vede male ragazzi riguardate i video quando li fate io cioè non si possono mandare video fatti così potete perché gli scarti ormai ci siamo ballo giochiamo ecco sto io sui panerai sto guardando nostro po studiando vado con i piedi di piombo andiamo lenti è perché sono qua è una cosa che ho capito tra le tante cose automatici manuali cassa x bentarini questo e quell'altro diametri misure configurazioni senza secondi una cosa che credo di aver capito è che quelli con la data un migarmano tanto quindi almeno senza data è una della scelta delle caratteristiche fondamentali per decidere cosa scegliere ultimo arrivo che avevo preso nell'occasione del dell'evento che abbiamo fatto a viareggio ho avuto l'occasione di poter comprare dal buon giacomo questo top orologio che mi è arrivato da poco bravo si molto bene l'orologio con il suo bracciale bracciale rollo bravo e che aggiungere lo conosciamo già piuttosto bene certo e da quando è arrivato lo indasso veramente molto spesso ti ho detto le misure il bright l'incronomat 40 è un 40 36 il rolex dei giust è un 36 il granseico è un 37 e il luminor marina 44 panerai è un 40 40 ora ti lascio i gattini su instagram grazie ora io vado a vedere i gattini su instagram che perlomeno sono messi a fuoco perché te proprio zero come messa a fuoco lo lasciamo lo facciamo vivere questo video almeno non mi restiamo andare un altro che sennò dopo lo fai fuori fuoco anche quello 8 ti do un 8 perché poi rimango influenzato anche da quelli che mi hai fatto vedere all'inizio che mi avevi già mandato per cui li avrei già votati ma un 8 te lo do perché tutti i begli orologi tra i quali mi intriga particolarmente il panerai bianco da 40 ecco da 40 però mi sa che 30 metri di impermeabilità 30 metri di impermeabilità o e 50 insomma una roba così dovrebbe essere 40 e 40 millimetri poca poca cosa no ho forse il 38 non me lo ricordo comunque gli ho sempre scartati per la scarsa impermeabilità ecco sull'impermeabilità sono arrivato a pensare che 100 metri possono essere anche sufficienti per il panerai che andrò a prendere magari da utilizzare tanto non è che vado a fare delle immersioni gigantesche no potrebbero essere sufficienti 100 metri anche così mi si allarga un po la il ventaglio di offerte comunque ti ripeto 8 quadrante bianco lì particolare non so se come primo panerai uno deve scegliere il quadrante bianco perché mi diventa un po fuori standard fuori dalla tradizione comunque bello mi piace e come tutti gli altri c'è poco da dire bright il cronoma 3 scelto verde particolare a dimostrazione che non è che io ho i miei gusti no e se mi sento come se gli altri dovessero avere tutti i miei gusti in realtà non è così in realtà è bene che gli orologi verdi così soleil che per me è un pugno in un occhio agli altri piacciono meno male altrimenti sarebbero tutti quegli stessi orologi io mi sentirei ma dopo mi sento uguale agli altri e cambio io capito meno male prossimo video buonasera davide buonasera a tutti gli amici del gruppo telegram sono alessandro da lecce al mio terzo video e dopo oltre un anno ti ripropongo parte della mia collezione che è rimasta dall'epoca e orologi un po più recenti che ho acquisito nell'ultimo periodo nell'ultimo anno facciamo subito con l'unico quarto della collezione questo e della mia compagna glielo regalai lo scorso anno per il suo compleanno fatto per il sopire x 35 mm ci sta lo indossa abbastanza spesso tranne che oggi l'ho lasciato a casa nel giorno in cui devo appunto fare questo questo video non fosse per la messa a misura del bracciale lo utilizzerei anche io perché è un orologio che francamente mi piace mi piace parecchio poi andiamo avanti cominciamo con i vintage questo è un valer vetta degli anni 50 orologio placato in oro a 20 micron la placatura si sta perdendo piano piano col tempo ha un bellissimo quadrante in vetoni come si può notare contro luce e poi una gradevole fioritura sul dial andiamo avanti altro valer vetta degli anni 50 è uno star fighter del quale non ho trovato nessuna notizia sul web per esempio delle pubblicità dell'epoca non c'è ne sono comunque un orologio che si vede in giro in alcuni voli che quanti già detto dell'esistenza poi è un monoblocco quindi rientra ma che quanti già i guanti da tatuatore da 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 pulizie da guanti monouso d'ambulanza ma va bene dai su ascolta ho fermato per dirti che quel centrino troppi che lì su un orologio vintage con un quadrante ingiallito e le anse così ingentilite dal tempo non ci sta proprio una sega proprio veramente come fate a mettere un citrino tropic che va bene ha un po di sapore retro ma sapore retro se noi lo infiliamo no come diceva lì dentro a un orologio diver sportivo non un orologio classico così contento te contenti tutti no in un periodo in cui valer vetta voleva dimostrare la robustezza dei suoi dei suoi orologi dei suoi calibri questo qua un eta 2452 se non erro non ricordo bene 24 stato revisionato alla sua corona originale di una cassa fantastica che viene ripresa oggi nella linea editaggio di valer vetta seppur in dimensioni più più grande 35 millimetri la cassa del dynaway hanno sette superfici lucidate differenti ed è un orologio che uso molto spesso ora equipaggiato con questo tropic che provvederò a togliere quanto prima possibile lo si lo rende più sportivo però non probabilmente non è della sua epoca è cozza un po con lo stile dell'orologio poi altro vintage anche questo revisionato è un certina water king 215 a carica e automatica orologio revisionato anche questo una corona originale 33 millimetri di cassa che trovo indossabilissimo perché è cuscino così bellissimo tra l'altro certo poi altro vintage seiko lord matic cassa tv 1972 bellissimo dial in grigio carbone grigio carbone funziona il datario perfettamente solitamente i lord matic hanno il problema della dello scatto rapido della della data che si rompe col tempo perché l'ingranaggio in plastica in questo caso nei due casi perché ci sarà anche un altro lord matic dopo che ti presenterò funziona perfettamente questo è il datario in italiano e di inglese l'altro lord matic è questo qua del 69 5606 7000 la referenza datario in kanji e in inglese cassa meravigliosa anche questa monoblocco come il valervetta chiedo scusa che riprende quella che la grammatica del design voluta da seiko negli anni sessanta per la cassa successivi orologio che funziona perfettamente bellissimo il dial è molto più semplice a trovarli in bianco questi questo orologio nel mio caso l'ho scelto nero ed è meraviglioso 35 mm anche in questo caso bravo andiamo in quelli contemporanei subito all'oroggio del giorno il regio solstice tu lo hai recensito quindi lo conosci perfettamente l'unica cosa ma ecco questo qua l'ho recensito è bello assai mi sembra di aver capito che adesso non esiste più ecco quando si parla di brand emergenti micro brand no ha fatto un paio di orologi come si deve e poi da quello che ho capito che mi dicono che non sono più in contatto con loro non è che c'è una collaborazione fissa no ha fatto la recensione e da quello che mi dicono sul gruppo telegram appunto pare che anche contattarli insomma non ci sono più sono morti finiti chiuso è una giungla è una dura vita che mi rammarica di questo micro brand il fatto che siano spariti hanno fatto questo orologio e si sono andati alla macchia senza più produrre altro se le premessero queste è un gran peccato perché potevano regalarci grandissime soddisfazioni addirittura poi andiamo sopravviveremo ancora al seiko turtle una delle ultime acquisizioni un secondo polso del 2021 adesso con un nato sotto misura da 20 mm lui ha un passo ansa di 22 orologio da 45 mm che non credevo potesse stare bene sul mio polso da 16 e mezzo poi ho saputo ho girato non l'ho mai provato ho saputo che il suo lag to lag è come quello del promaster quindi mi ci sono buttato l'ho comprato e mi trovo benissimo devo dire mi ha accompagnato per tutta l'estate che esista più che altro perché guarda anche a vederli così affiancati no promaster più che altro perché quello che ti dà l'impressione visiva è la ghiera colorata l'inserto chi era colorato ti prendi quella misura lì poi 45 sarà la cassa in acciaio lì da fuori il tartal quel tu con l'acciaione che c'è fuori lo misure 45 ma visivamente parlando poi 45 lì non li vedi non li vedi 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 il tondo vedi e poi il lag to lag da dove parte il cinturino quindi sono sicuro che sta bene al polso concludendo se si vizza in promaster aveva anche il fratello che era il full lume poi è stato venduto lo scorso anno ed è rimasto soltanto lui in collezione bello poi altro diver il mio primo orologio conosciuto grazie ad una tua recensione il kamasu è vissuto tre anni fa è vissuto questa configurazione al quale poi ho aggiunto lo strapcode bravo poi emilton khaki marf da 38 mm sono quasi due anni che con me non perde un colpo orologio perfetto che a volte equipaggio scusa la ripetizione in termini con un nato che ci sta benissimo su questo tipo di di orologio che è uscito il bracciale per il marvin se lo vuoi lo prendi ultimo acquisto foibos narval da 38 mm guarda che bello mi piaceva molto la precedente referenza che era la 40 però mi pareva troppo grande per il mio colso pur non avendo la mai provata è uscito con la 38 l'ho comprato appena è venuto fuori in diasporo giallo in questo caso queste sono delle referenze numerate limitatamente a credo 150 o 100 esemplari per colore sono quattro colori differenti è bello fatto bene il richiamo al numero seriale della serie limitata non so se si legge orologio perfetto che con un mio da 9 mila all'interno gli era dal feedback spettacolare in ceramica vetro zaffero mi accompagnava anch'io lì per l'estate la cassa è al mio modo di vedere bellissima tra l'altro orologi robustissimi pesante mi stupisco come riescono a mantenere un range di prezzo così basso con una qualità di questo tipo insomma c'è potrebbe avere delle risposte in merito però insomma non è un dibattito politico questo messo la presentazione della mia collezione poi ultimo pezzo il mio prezzo pregiato la collezione abbiamo sforato adesso i sette minuti va il lo squadra 21 ci piace al quale ho messo questo cinturino in pelle però è stato acquistato con il tropic un po' morbidissimo e comodissimo orologio che non ha bisogno di ulteriori presentazioni questo qui è meraviglioso veste benissimo al polso una cassa iconica che è così dagli anni 60 non ho nulla da dire su questo orologio che ha un sellite sv200 di grado elaboré se non erro all'interno mi scarta circa tre o quattro secondi al giorno rientrato da poco dalla revisione perché aveva una macchia dopo il primo bagno il secondo bagno al mare ha presentato la macchia all'antiriflesso sul sul vetro ed è stato sostituito è rientrato dall'assistenza dopo quasi due mesi peccato ok davide io ho terminato spero di essere stato rapido e leggero nella mia insomma nella mia nel mio racconto delle collezioni ti saluto ti mando un abbraccio e rock and love rock and love bravo e belli orologi ti do un set mi spiace per quello per quello squale lì che dopo il primo bagno problemi al antiriflesso maestra tra l'altro non è la prima volta che sento qualcuno che si lamenta di squale o c'è un concentrato di sfiga ultimamente oppure c'è qualcosa di strano però che io sappia tutti quelli che ho provato di squale sono ottimamente realizzati sono famosi per essere subacquee quindi come con cose gli puoi dire non lo so e poi gli altri orologi non me lo ricordo più fai un po vedere ah c'è tanti vintagini villervete secolo automatico reglio un po di secco il citizen l'emilton marf sul quale ti ripeto c'è il è uscito il bracciale dedicato è uscito proprio la versione dell'emilton marf da 38 braccialato poi chiaramente se vuoi comprare bracciale a parte lo vedono quindi se uno vuole fare un upgrade perché col bracciale diventa proprio veramente comparabile poi è l'emilton cacchi fila da 38 con una grafica differente senza data e quindi diventa il suo competitor proprio in casa e diventa un orologio da tutti i giorni è bello anche il narval lì che dici mai fatto un discorso sulla politica non so cosa sia la politica sui prezzi come fate nelle cose bassi e sono anche questi qua sono anche decenti nel senso che costano 300 300 400 sono quel range lì poi ci sono i marchi cinesi quelli che fanno anche gli orologi copia che riescono a tenere anche a 100 euro quindi il discorso poi dopo si va a abbassare ancora lì non so c'è un sacco di discorsi da fare sui quali non mi ha dentro che sinceramente non mi interessa poi lo ritengo un buon marchio che fa degli orologi fatti bene belli con personalità e con un certo know how a livello di design i marchi cinesi che fanno le copie non li ritengo tali li ritengo spazzatura tutto lì la differenza è quella proprio anche semplicemente fosse una questione di design ecco fatto l'azienda che c'è dietro che c'è dietro che ti nasce solamente per fare copie ti nasce per fare un design proprietario è vinto te punto ragazzi ciò che voglia mi sembra di aver detto tutto a me abbiamo guardato i video abbiamo la scimmietta ha visto qualcosina di nuovo ha visto nel primero simpatico lì che era tutto nero gli è piaciuto anche il primo è lì lì che deve essere prima o poi di entrare in collezione perché non si può avere lo speed master un rolex un brightling e non avere uno zenith in collezione cioè ma siamo matti lo zenith che dovrebbe essere il non plus ultra deve essere dovrebbe essere il primo speriamo di trovare prima o poi un modello che soddisfi tutte le mie aspettative a livello di diametro colori fattibilità va bene ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube wow ciao ciao